Tutti i paesi europei arrivano le stesse lamentere, gli agricoltori sono convinti Bruxelles deve ascoltarli e tornare sui suoi passi. L'agricoltura è già in ginocchio da tempo, siamo scesi in piazza perché siamo arrivati veramente agli sgoccioli. Ursula von der Leyen al termine del vertice straordinario ha incontrato i rappresentanti degli agricoltori assicurando loro il pieno sostegno, l'intenzione e ridurre gli oneri amministrativi e affrontare le sfide strutturali. Sul tavolo anche la deroga per un altro anno all'obbligo di mantenere incolto almeno il 4% delle terre. Da giorni i trattori delle campagne si sono spostati lungo le strade dell'intero paese. La protesta non ha un solo leader e una sola organizzazione, ma un'anime sta convergendo verso Roma. Questa mattina intorno alle 7 un presidio autonomo fermo da 7 giorni all'esterno del casello della Val di Chiana è entrato in autostrada. Altri mezzi agricoli stanno percorrendo la via Cassia. L'arrivo per tutti è previsto verso le 17 nella capitale. Non hanno intenzione di bloccare il traffico gli agricoltori, ma di circondare la città sostenuti anche dai camionisti per una nuova, lunga mobilitazione a Roma. Una concorrenza sleale perché non sappiamo, non abbiamo certezza del prodotto che importiamo, dei disciplinari di produzione, mentre quelli italiani sono rigidissimi e controllatissimi. Da sempre settore di punta dell'economia del paese, per molti di loro il comparto non è più lo stesso. A metterlo in ginocchio dicono sono le politiche europee a sostegno dell'ambiente, ma anche la mancanza di regole per uniformare il mercato delle importazioni e l'aumento dei costi di produzione. Il paese è bloccato dagli scioperi di autotrasportatori, macchinesi dei treni e dalle proteste degli agricoltori. Code interminabili di trattori e tir costringono all'immobilismo l'economia della locomotiva d'Auroma. Al tempo stesso molte categorie minacciano di unirsi alla contestazione nei prossimi giorni. Muniai, macellai, panettiere, medici, sono tanti lavoratori sui piedi di guerra. Tutti con il vito puntato contro il governo federale accusato di adottare politiche d'austerità che mettono a repentaglio la competitività e l'esistenza di interi settori industriali.